Salve amici, in questo periodo in cui c'è il processo del Ponte Morandi vorrei porre una domanda, forse un po' impertinente, ma che ci poniamo tutti. Noi abbiamo visto il professor, il dottor professor Ingegner Brecic, parlare in televisione e ha detto che vent'anni e cinquant'anni per un ponte sono come vent'anni per un uomo, e sicuramente è vero se si riferisce ai ponti degli antichi romani, forse anche meno, il ponte di Tiberio, il ponte di Augusto a Rigni. Però sul Ponte Morandi io vorrei fare una domanda. Tra le centinaia di ponti progettati da Morandi quanti sono durati più di cinquant'anni? Quanti non sono stati dismessi prima dei cinquant'anni? Ricordo che i due ponti gemelli del Morandi, uno aveva crollato perché una nave è andata contro un pilone, quello di Maracaibo, l'altro che era in Libia, anche se era stato fatto alcuni anni dopo il ponte Morandi, era stato chiuso al pubblico perché è pericoloso. Ma anche gli altri. Io mi ricordo ad esempio in Toscana un ponte di Morandi sul fiume Elsa, che il primo gli durò 17 anni, poi ne progettò un altro che gli è durato 40 anni. E quindi mi viene un dubbio. Qua, tra le centinaia di ponti che ha progettato, qual è la percentuale di ponte che è durata più di 50 anni prima di essere dismessa? E quale meno? Perché io mi ricordo ad esempio al Ponte Italia, in Calabria, dove tra l'altro morì anche un operatore mentre lo stavano facendo esplodere. Anche quello non mi sembra sia durato 50 anni. Io ho l'impressione che la maggior parte dei ponti progettati da da Morandi durassero meno di 50 anni. Non so se per colpa sua o per colpa di chi, per colpa di un destino avverso, però ecco il discorso parametrare il ponte Morandi a tutti i ponti e non invece ai ponti progettati da Morandi, anche perché nel 2018 ne erano stati dismessi veramente tanti, a me sembra veramente strano. E che nessuno tra quei 58 ingegneroni sapesse che tanti tanti ponti Morandi erano stati dismessi perché non più sicuri prima dei 50 anni. E questo ne aveva già 51. Ed era in avanzato stato il degrado, una zona industriale con tanti elementi corrosivi eccetera eccetera. Non lo so. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Certamente io questa domanda me la pongo e secondo me se la dovrebbero proporre un pochino più.